Ciao a tutti teoretti e benvenuti qua su The Crew E qua c'è una bella cosa Un bel video sulla Koenigsegg Agera trailer, però no, non interessa Perché è da vedere un video Pensavo fosse qualcos'altro Andiamo su attività per ritirare il nostro premio Diciamo che mi sono comprato il veicolo Ho speso un milione ma ne ho ricavato poco Però no, vabbè, sì Abbiamo dei veicoli in più Però ci siamo vinti un nuovo veicolo Che si tratta di una Ferrari E non fa mai male avere una Ferrari Ecco, siamo arrivati a livello oro Ma non mi lamento Chi se ne frega degli pneumatici Alla fine fa niente E abbiamo i pezzi per la Bugatti e tanti follower Allora, prossimo evento è il Sunshine States E poi c'è quello della Mitsubishi Che lì ci impegneremo un sacco Questo qua in cui c'è la zonda dei bei pneumatici E questo qua, la Big Apple Ah, la Ferrari da Drift Ok Comunque qua, 400.000 follower E' un sacco per livellare Andiamo qua Dai, direi di far già qualcosa Limite di velocità Hypercar Allora, Red Bull Nomad Che cavoli è? Per curiosità mia Ah, ci sta, che figata Quanto costa? Non avremo i soldi sicuramente Esattamente Non abbiamo i soldi Ah, poi col Season Pass Vanno a posto per farmi comprare il Season Però io quasi quasi non lo Eh, mi spiace Tra l'altro mi sono comprato il volante giusto oggi C'è Ieri Però ho avuto dei problemi E l'ho usato oggi Vediamo il tizio con cosa va Sono belle queste gare di velocità Perché un sacco di gente va con le auto veloci Tipo Da drag Ecco Ragazzi, sappiamo cosa fare Un'auto da drag Adesso vediamo quanto facciamo Non supera i tre Vabbè dai, 300 Pensavo peggio Vediamo cosa ci classificheremo Ma saremo belli bassi No, casca giusto a pennello 33.000 Vabbè, pensavo peggio Salta E direi di andare Sempre qua Auto da drag Ah, tra l'altro io ecco Mi sono cambiato il colore della GTR Voglio rifarla un po' Poi voglio fare anche questa massa Anche non è male La Camaro di scorsa volta Che figata Prestazione, vediamo Sapete che quasi quasi Mi farei La Focus, dai Un sacco di veicoli nuovi Ogni weekend Cioè weekend Ogni sa Ogni mercoledì Praticamente Vabbè La Focus RS è tanta roba Personalizziamo Allora colore Beh ci sta bene questo Verde Però il blu qua Mi sta Mi sta piacendo Direi di lasciarglielo Andiamo su vanity Vabbè Questi Vediamo un po' di pneumatici Fumo Blu A sto punto Mentre pezzi decorativi Vediamo un po' cos'ha Allora Cofano Questo è proprio Non ci sta Questo qua è esagerato Vabbè con le presettine Lì in alto a destra I lati Vedete che ci sta Una roba simile C'erano due O sbaglio No Cioè ci sta O questo Oppure quell'altro Questo dai 2600 E così spendiamo anche Un po' di soldi Tanto per Paraurti Allora Direi di far Ma Carbonio Questo qua sembra Quello Eh la Fiesta nuova Cioè scusate La Focus No questa qua è una Fiesta No è una Focus Sembra quella nuova Con la mascherina così Dai una roba Allora questi Troppo carbonio Questi troppo Luci Cerca di andare tanto Su questi Così la facciamo Più nera Che Così non si vedano Le frecce Allargata Ovviamente Guardate le pinze Rosso Quasi quasi Specchietti Vabbè dai Modifichiamo tutto Ormai è un'auto da drag Minigone Allora se vi guardate Davanti Aveva un pochettino Di nero Però che nero era Scusate Nero normale Non era Carbonio Quindi Li metterei Queste Boh vediamo un attimo Dopo Barafango Posteriori Anche questo Lo allarghiamo Leggermente E alettone Allora c'è Questo 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 qua Uh darelli È un alettone E glielo metterei Vedi che non so quale Però È troppo Alzato Cioè Metterei questo Vabbè Quasi quasi Colo Lidarelli Vabbè Proviamo con questo E dai Vabbè Lì li mettiamo pure Minigone in carbonio Queste qua Paraurti posteriori Ok Toglie già specchietti Li fa I fari così Cambia anche dietro Ah Non li ho ancora Guardate gli scarichi Io Ok Iniziamo a ragionare Mottie No Centrale non mi ispira Due laterali Sì Questo Sapete che non lo so Hanno tolto i colori dalle luci Dai Lasciamogli questo E colori interni Direi di farli Blu Ma sì dai Gialli Gialli ci stanno Inserto interni Nero carbonio Nero dai Carbonio dai Già che ci siamo Direi che siamo a posto Con la nostra piccola auto Oh Che figata La ruota posteriore Non l'avevo mai notata Cambia veicolo No no Guida veicolo Ok L'alettone Non è troppo esagerato L'auto è esagerata No ecco Cercate sempre di non ostacolare I vostri Avversari Direi che una partenza Così ci può stare Ok 517 Sapete una cosa Va un sacco Quest'auto Va più della Mustang Nell'evento passato Anche se magari La Mustang Era un po' più Più Per Potenziata Forse No comunque ragazzi Ho i buoni propositi Per vincere Però non mi va di spendere 20 euro Per il season pass Piuttosto Chi se ne frega Di quelle cose Faccio le altre E mi classifico Almeno per la McLaren Anche se sarà Molto difficile Peccato che adesso Non posso modificare Le auto direttamente Da qua Direi Sì Con la mia vecchia Königsegg È stata Sì La prima auto Molto costosa Comprata Poi vabbè Ho preso La GT40 Ma Non per volere mio Ma perché servire Una sfida Oh cavoli Sempre sta gara Dai 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 Qua dobbiamo vincere Dobbiamo arrivare Almeno L'idea sarebbe Superare i 100.000 Punti Però vedrete Che Non li supereremo Saremo tipo Sugli 80 70-80 Per quella cavolata iniziale Che dispiace Sotto Ok Bene Dai Secondo me Sotto i 70 Non sono Sono sopra Gli 80 84 Onesto Dai Ci può stare Facendo qualche cosettina In più Si può arrivare Più in alto Vediamo anche Un attimo Al Samy Quanto è la Cioè Quanto sono Ok Oro 820 866 Questi qua saranno difficili Un po' da fare Powerbot Vabbè Io andrò avanti Off camera Io vi saluto Vi ringrazio Noi ci vediamo Prossimamente Con un nuovissimo video Ciao a tutti Toretti